Pranzo di Pasqua made in Caffè Italiano, locale storico nel cuore di Firenze completamente rinnovato di recente con la firma dello chef di Bibbona, Jonathan D'Alessi, che inventa il primo, raviolini, ripieni di pappa al pomodoro primo piatto molto leggero per lasciare spazio alla griglia per Pasqua facciamo una ricetta molto leggera, quindi a base di una pasta fresca fatta in casa un impasto di pappa, quindi preparando prima la pappa al pomodoro, la famosa pappa al pomodoro andiamo a fare il raviolino, lo scottiamo e mettiamo solo della ricotta di bufala dolce, non salata e un olio al basilico sfoglia sottile e pappa che si scioglie in bocca, le uniche sottolineature dello chef sembra facile, sì, per lui Deve essere una crema, eccolo, quindi una pappa cotta molto molto bene, con il pane molto sciolto quindi nessun pezzo di pane che rimanga in bocca, che dia consistenza, ma una crema quindi si deve sciogliere proprio in bocca Per la griglia ci affidiamo al campione italiano del barbecue che dà qualche segreto per gli improvvisati fuochisti di Pasqua e Pasquetta Per evitare di sciupare una bistecca, allora, la fiorentina, dato che siamo in Toscana, quali accorgimenti basilari dobbiamo guardare? Evitare di affettare la carne immediatamente fuori dalla griglia bisogna lasciarla riposare per qualche minuto, una fase che si chiama rest, per ridistribuire i succhi e la temperatura all'interno della carne ed evitare che si perdano poi nel piatto L'agnello si può cuocere, dato che è classico pasquale? Assolutamente sì, le costine d'agnello sono un classico di Pasqua, scottata veloce e indiretta vanno tenuti un po' più rosa di quanto si creda perché quando l'agnello poi cuoce troppo rimane un po' più duro